E proseguiamo parlando di Linea alla Scuola, il format che Martina Live porta avanti con la Fondazione Cultura e Innovazione. Linea alla Scuola, una vera e propria testata giornalistica dove i ragazzi sono i protagonisti, sono reporter, tecnici del suono, delle luci, giornalisti, vivono l'esperienza dalla piena della televisione in prima persona. E oggi con noi abbiamo i ragazzi dell'Istituto Bruno Fiore di Nola, organizzatisi in redazione con la giornalista Maria Coppola. E dunque saluto in primis la loro docente che è qui con noi, Pina Vaccaro, buongiorno. Buongiorno. E poi ragazzi che sono qui in rappresentanza della scuola, per Linea alla Scuola, Francesca Di Somma, Giorgia Santaniello, Nicola Meo e Leonardo Napolitano. Buongiorno a voi. Dunque inizio proprio subito dalla vostra docente, quindi tre incontri fondamentali per questi ragazzi, si sono approcciati ad una nuova esperienza, che tipo di lavoro è stato svolto? Hanno svolto un'esperienza molto interessante, altamente formativa, a cui hanno partecipato con passione. I ringraziamenti vanno comunque innanzitutto alla nostra dirigente, la professoressa Maria Riervolino, la quale vuole che la sua scuola abbia sempre una finestra aperta sul mondo. La nostra è una scuola molto attiva sul territorio, molto presente e quindi nasce da qui, da questa visione della scuola, l'adesione al progetto Orienta Life. La scuola Orienta per la vita, che raccoglie in queste poche parole del titolo tutta l'intenzionalità e anche la validità del progetto stesso. La mission proprio del progetto. In particolare il percorso proprio di linea alla scuola, grazie alla professionalità e anche all'empatia della giornalista che l'ha condotto, la dottoressa Maria Coppola, ha fatto sì che questi alunni diventassero per qualche giorno dei piccoli giornalisti in erba. e hanno lavorato molto bene, hanno prodotto delle cose molto interessanti, molto carine, degli articoli che spaziano tra la cultura, lo sport, il problema ambientale, riflessioni personali. Quindi andiamo proprio sulle tematiche. Inizio proprio da te Francesca. Tre incontri. Avete lavorato in gruppo, avete affrontato delle tematiche sempre differenti. Qual è la tua tematica, quella che hai preferito su tutti? Allora, la tematica che ho preferito è stata la tematica della pedofilia. Per quanto mi riguarda penso che sia un reato ignobile in quanto rivolto a degli esseri puri, quindi ai bambini. Quindi per me penso che sia una cosa veramente ignobile, una cosa veramente ingiusta, sendo rivolta a quindi bambini. E invece io credo che sia fondamentale per voi affrontare questi argomenti così importanti, anche se sono molto complessi ovviamente per voi ragazzi, ma sono fondamentali perché vi aiutano a capire cosa è il giusto, che cosa è sbagliato, che cosa perseguire per la vostra prossima vita. Giorgia, vengo da te. Qual è la tua tematica di riferimento? Allora, col mio gruppo abbiamo parlato della camorra. Penso sia una cosa molto importante, soprattutto per chi vive in questo territorio. Abbiamo pensato di parlarne perché molti ragazzi come noi vivono situazioni molto difficili a causa di questo fenomeno. E parlarne può aiutare sicuramente a evitare di diffonderlo ancora di più e cercare di non fare gli stessi errori di tanti ragazzi. Hai scoperto cose che non conoscevi di questa tematica? Sì, assolutamente. Abbiamo parlato principalmente del caso di Gianluca Ciminello, un giovane tatuatore ucciso a Casavatore nel 2010. A causa di una foto su Facebook con un giocatore del Napoli. Penso sia stata veramente una cosa tanto cattiva e crudele. E parlarne ci ha aiutato ad aprire gli occhi su questa tematica e a capire anche come affrontarla. Sì, assolutamente. Anche perché a volte le vittime sono persone che sono lontane dalla camorra e che purtroppo perdono la vita per episodi del genere. Nicola, vengo da te. Qual è la tua tematica di riferimento? Io ho parlato delle gang e dei gruppi malviventi che si trovano in America, soprattutto legati alla morte di persone famose, come per esempio il rapper Tupac e The Notorious B.I.G., che sono appunto morti entrambi per aver causato delle risse e poi essere assassinati da questi gruppi malviventi. Interessante questo argomento. Ti ha particolarmente incuriosito per un qualche aspetto in particolare? Sì, anche perché nel 2023, precisamente nel 9 settembre, è stato finalmente incriminato un sospettato per la morte di questi due rapper a causa comunque di una presquisizione in questa casa. Leonardo? Allora, io ho parlato principalmente della violenza sulle donne e del femminicidio, perché anche se al giorno d'oggi comunque dei miglioramenti li abbiamo avuti rispetto al passato, non abbiamo appunto la parità di genere. È uno degli obiettivi dell'agenda 2030, ma ancora non l'abbiamo raggiunta. Perché un esempio semplice che possiamo vedere è per esempio ai capi magari di un'azienda, di un'industria, non ci sono sempre delle donne, ma la principale fetta sono solo uomini. E questo è una cosa molto grave. Direi tutti argomenti super interessanti e quindi vi faccio sicuramente i complimenti per le tematiche che avete scelto. professoressa Vaccaro, quindi un'esperienza direi riuscitissima a 360 gradi. Spesso si dice che i ragazzi non vogliono leggere, non vogliono scrivere, ma a volte ci vuole solo un accesso diretto alla cultura. Sì, loro si sono approcciati a questa attività veramente con passione e i risultati insomma si sono visti. Si vedono tutti. Ragazzi, veramente complimenti. È piaciuto partecipare a questo progetto? Sì. Sì? Francesca? Sì, mi è piaciuto veramente partecipare a questo progetto perché comunque ci mette in realtà, cioè ci fa capire la realtà che ci circonda. Ci avvicina anche, ci avvicina, certo, chiaramente. Perché appunto orienta l'azzo in modo da orientare appunto la nostra vita al meglio, cioè ci dà delle basi per condurre la nostra vita al massimo. E io vi ringrazio, vi faccio ancora i complimenti per quello che è stato ovviamente il vostro progetto di linea alla scuola, quindi ringrazio in primisla la vostra docente Pina Vaccaro e poi voi ragazzi, Francesca, Giorgia, Nicola e Leonardo, che sono qui in rappresentanza dell'Istituto Bruno Fiore di Nola. Organizzate, si ricordiamo e salutiamo con la giornalista Maria Coppola. Pubblicità, rimanete con noi. Grazie.